lascia like a questo video se ami tua mamma se non lascia like a questo video non l'ami quindi lascia like a questo video veloce lascia like a questo video e iscriviti al canale con la campanella se vuoi che ti regalo un account moddato oppure se vuoi che ti moddo il tuo account di gta 5 line e commenta più volte nei commenti con il tuo id e con la tua piattaforma così ti potrò dare la tua ricompensa e inoltre ogni video 15 persone potranno partecipare alle mie moddati il tuo account con aggiunte di denaro rango outfit moddati auto moddate è davvero molto semplice in questo momento nel canale telegram che troverai il link nei commenti di questo video e nella descrizione di questo video dove troverai diverse aggiunte di denaro per ps4 ps5 xbox e pc inoltre c'è come novità esattamente il corso per moddare comunque gli account per ps4 xbox e pc qualsiasi comunque account i prezzi li trovate qui in listina infatti sono i prezzi più bassi in italia 100% affidabile infatti potete contattare comunque come vedete qui cliccando la chiocciola comunque come vedete esattamente del fornitore quindi del modder li scrivete e comunque in meno di 24 ore avrete esattamente la vostra aggiunta all'interno del vostro account correte ora in questo momento trovate il link nella descrizione e nei commenti e non fatevi perdere questa opportunità ora ciao a tutti in questo nuovo video qui xianox di cta e oggi in questo video vi mostrerò un nuovo glitch duplicazione davvero molto semplice in solo infatti come ultimo requisito vi servirà esattamente la toreador un veicolo da 4 milioni e 250 mila dollari infatti il glitch è davvero molto semplice lo riuscite ad eseguire in due minuti infatti un glitch duplicazione davvero molto molto semplice e veloce come prima cosa dovete andare nella spiaggia aprire come vedete la porta del veicolo sparare contro la porta contro la toreador e ora dovrete attendere che si giri una volta fatto salite all'interno del veicolo indietreggiate quindi entrando all'interno dell'acqua in questo modo qui come sto facendo io e una volta che vi apparirà il messaggio che il veicolo personale si è rotto cliccate il pulsante per uscire diciamo il boost l'analogico sinistro se siete da play o da xbox e una volta fatto se chiamerete comunque in questo caso la vedete l'assicurazione vi apparirà il veicolo rotto quindi in questo caso il glitch ha funzionato al 100% quindi cliccate claim all quindi come vedete non ve lo farà nemmeno pagare quindi tanta tanta roba e se comunque pagherete diciamo il veicolo e lo chiamerete col meccanico l'avrete 100% duplicato quindi avrete sia il vostro veicolo personale la vostra toreador e sia questo veicolo qui che potete andare a vendere quindi potete ricavare davvero tantissimi tantissimi milioni in poco tempo quindi penso che sia un glitch davvero molto molto fantastico e assurdo infatti vedete quella qui non uscite dal veicolo come ho fatto io perché poi non vi farà più salire quindi andate direttamente allo santus custom e vendetela fate questo glitch davvero molto molto semplice prima che venga rimosso mi raccomando ragazzi essendo che comunque davvero molto molto semplice e veloce mi raccomando per aggiunte di denaro o rango e tutto cliccate comunque il link che troverete nel commento fissato essendo che troverete il miglior shop per comunque aggiunte di denaro rango e tutto ciò che volete anche comunque per aggiungervi i primi milioni per comprarvi la toreador e fare questo glitch comunque ragazzi per questo video è tutto e noi ci vediamo alla prossima con un prossimo video ciao a tutti